Io ho un ringraziamento ai più forti della mia categoria che non hanno partecipato, dandomi la possibilità di arrivare terzo. E' contento? Sicuramente sì. Com'è andato l'anno? Tra alti e bassi, qualche acciacco, però ho portato a termine. E' contento del 2017? Sì, abbastanza. Paolo, io arrivo da Milano, per cui ho avuto il premio per la presenza di 250, quindi è già un grosso successo ad essere riuscito ad arrivare fino a qui, a fare sacrificio, è zona Bovisa, per cui sono abbastanza comodo con l'autostrada. Ancora anche mia moglie, mia moglie tra l'altro in questi anni ha avuto anche ripiazzamenti buoni che quest'anno ha avuto qualche problemino, per cui corriamo assieme, abbiamo una passione sviluppata grazie al piede d'oro, tra l'altro che abbiamo incominciato qualche anno fa a venire da Milano a fare la prima corsa, da lì poi abbiamo avuto questa opportunità di venire, abbiamo trovato degli amici, vediamo volentieri, è una bellissima cosa. Consiguiti con la costanza, con l'attaccamento, in effetti. Siamo contenti che gente di Milano che non è corrente? Penso di essere un'eccezione, rispetto a Milano, è il vantaggio di correre nelle vostre zone e soprattutto il percorso con dislivelli, percorsi con tratti verdi, sterrati, a cui noi piace di più che non correre nei milanese, per cui un grazie al piede d'oro per averci stradato nelle corse, ci costa un po' ovviamente perché via vai, però lo facciamo volentieri, la cosa ci piace. Grazie a voi per la costanza e complimenti a Ugo per la tua situazione. Va bene, ciao.